Alcuni giorni fa il sindaco Mastromauro ha proposto ai colleghi dei comuni limitrofi un innovativo e lungimirante protocollo che senza gravare sui bilanci apre ad una soluzione alla carenza di personale della sezione di staccata del tribunale di Giulianova. Tutti hanno firmato con entusiasmo. Questo è uno degli esempi di decentramento, come dire, di federalismo locale. Con questo progetto siamo andati in soccorso alla giustizia e ai ritardi della giustizia, cosa che dovrebbe fare il Governo centrale. Con questo protocollo, attingendo ai lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, a costo risicato per le amministrazioni, abbiamo messo a disposizione uno strumento che già ci viene richiesto da altre realtà. E proprio ieri la Corte di Appello, di questo sono onorato, ci chiede questo protocollo perché può essere un protocollo che fa scuola non solo in Abruzzo ma in Italia. Ed ora, anche fuori dai confugni regionali, si parla di protocollo Mastro Mauro, se dopo l'Aquila anche Savona ha chiesto copia del protocollo d'intesa enti locali tribunale.